Juventus TV ripensando alla partita di andata dove la Juve ha ottenuto una grande vittoria si aspetta un andamento simile oppure si sviluppa in maniera diversa visto che i momenti per le due squadre sono diversi e se sarà diversa in che modo sarà diversa? Innanzitutto domani ci giochiamo il primo posto contro una squadra che è in testa dal campionato della Premier l'anno scorso ha vinto la Champions, è una squadra che se gioca con Lukaku sviluppa le caratteristiche diverse degli erogicatori se gioca senza Lukaku è una squadra con più contropiedisti con meno punti di riferimento noi bisogna fare una partita tecnicamente valida, con lucidità con grande personalità, comunque per noi è un test molto importante Le avrei voluto chiedere se una gara importante come quello che i campioni d'Europa con un'altra importantissima per la classifica come l'Atalanta l'avrebbero condizionata nelle scelte però mi sa che non c'è troppo da scegliere a quello che abbiamo visto questa mattina o sbaglio? Da scegliere c'è abbiamo quattro difensori perché abbiamo Bonucci, Rugani, The Elite che è qui con me e The Winter che è un ragazzo giovane e bravo a metà campo praticamente l'abbiamo quasi tutti a parte Bernardeschi per quanto riguarda gli attaccanti abbiamo fuori Danilo Danilo l'abbiamo fuori per due mesi e davanti ho Morata ho Ken ho Klusieschi che stamattina non c'era al campo ma era dal dentista gli hanno tolto un dente quindi è a posto e che c'è da ridere hanno tolto un dente poveraccio che devi fare uno credo due o tre non so quanto ne hanno allevati e abbiamo Danilo fuori per due mesi De Ciglio dovrebbe rientrare o prima dell'Atalanta o subito dopo Bernardeschi è ancora un pochino indietro Chiellini mercoledì sarà a disposizione con la squadra quindi siamo in una condizione buona per fare una bella partita ci vuole una bella partita perché comunque giochiamo una partita di Champions contro il Chelsea Un poveriggio mister Giovene Albanese Sport Italia le chiedo se domani pensa di cambiare qualcosa dal primo minuto a centro campo o da dove ha trovato continuità poi in realtà nelle ultime partite grazie domani rientra Alessandro è sicuro e poi vedremo a metà campo se ne tolgo uno ne metto uno in più insomma quello vediamo Giorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport io volevo sapere come sta Di Bala se può essere convocato se ha un po' di minuti nelle gambe insomma minuti nelle gambe non lo so perché ha 8-10 giorni che praticamente è stato fuori con la squadra stamattina si è allenato con la squadra è convocato quindi a parte quello che ho detto poi Coluziaschi è convocato Di Bala è convocato tutti gli altri possono fuori Buongiorno mister Filippo consigliere Corriero Sport le chiedo se il 4-33 che abbiamo visto a Roma può essere nella strada da qui in avanti anche per avere maggiore solidità a centrocampo in difesa grazie oltre che nello sviluppo offensivo ovviamente grazie non è che è questione di caratteristiche dei giocatori noi bisogna migliorare diciamo la fase realizzativa perché noi creiamo delle situazioni importanti anche sbagliamo nell'ultimo passaggio nella scelta paradossalmente Sabata a Roma abbiamo rischiato molto due o tre volte quando non abbiamo chiuso l'azione abbiamo preso tre contropiedi e quindi in questo momento la nostra classifica è quella che rispecchia a differenza reti dove abbiamo subito 15 gol e ne abbiamo fatto se non sbaglio 18 credo e quindi bisogna come squadra riuscire a trovare un pochino più di gol Buongiorno mister Luca Cavallero TMV Radio io invece volevo porle una domanda su Rabiot che a Roma è parso nettamente rispolvero in che cose secondo lei deve ancora migliorare come giudica questo suo momento positivo come l'ha trovato questa mattina in allenamento grazie ma Rabiot era in crescita prima del covid poi dopo post covid ha avuto un paio di partite con difficoltà ora sta decisamente meglio ma tutti i ragazzi stanno crescendo però in questo momento credo che la cosa più importante è fare le partite giocare le partite domani e pensare a quella che c'è nell'immediato domani abbiamo una partita meravigliosa a Londra con il Chelsea e poi da giovedì penseremo con l'Atalanta poi vedremo cammin facendo salve mister Giorgio Musso di Closciamercato.it le chiedo se ci può essere spazio per Ken dal primo minuto grazie o gioca Ken o gioca Morata o magari gioca un tempo uno un tempo l'altro comunque Ken quando è entrata a Roma ha fatto molto bene così come Morata ha fatto una bella partita buongiorno mister Fabrizio Ferrero Mediaset volevo solo chiedere una cosa sul rendimento della squadra in senso generale in Champions e con le grandi è una Juventus che forse non è mai stata neanche ammalata quest'anno nel senso che ha fatto sempre bene se è ammalata è ammalata con le piccole come si riesce a guarire in quella situazione senza perdere magari tutto quello di buono che c'è nell'altra perché effettivamente in Champions avete fatto un percorso netto con le grandi anche con Napoli prima dell'infortunio di Scesni chiamiamolo così avete giocato la pari insomma non avete perso quasi punti e questo è un ulteriore passaggio che va fatto perché comunque bisogna essere più bravi nel giocare con le piccole con maggiore tranquillità con maggiore serenità senza avere troppa fretta nell'andare a cercare il risultato così come ci capita a volte quando facciamo le azioni come è successo sabato a Roma una partita dove dovevamo fare molti più gol e invece ne abbiamo fatti solo due subrigori perché le le occasioni e le i presupposti per creare le occasioni al gol ci sono è che sbagliamo un pochino più troppo a fretta ma questo sicuramente è una cosa che andrà a migliorare sicuramente buongiorno buongiorno ha un'ottima base a livello aerobico e quindi credo che sia un giocatore stia diventando un giocatore importante ma così come tanti altri ci deve essere una crescita equilibrata da parte di tutta la squadra altrimenti non riusciremo a trovare risultati buongiorno mister Alberto Mauro il messaggero Juventus News 24 due mesi fa parlavamo qua di ridistribuire i gol di Cristiano Ronaldo se si ricorda gli attaccanti hanno segnato un pochino meno del previsto le chiedo se le mancano quei 30 e più gol a stagione di Ronaldo quello che è passato Cristiano dove è stato è stato è sempre stato il capocannoniere è stato sempre un accentratore noi quest'anno abbiamo tanti giocatori che possono far gol in questo momento qui ne abbiamo fatti meno di quello che sono le potenzialità dei giocatori che abbiamo a disposizione ma sicuramente i gol li troveremo Allora non vedo domande in sala proviamo a far fare la domanda di Guido che è collegato Sì, noi in realtà adesso sentivamo sì sentivamo purtroppo la voce di un'interge sovrapposta alla traduzione di inglese quindi non abbiamo sentito quasi nulla provo a fare una domanda potrebbe essere stata fatta scusate perché non si capiva veramente nulla scusami scusami Max volevo chiederti se è più difficile giocare contro il Chelsea con Lukaku o senza Lukaku questa domanda non me l'ha fatta nessuno quindi se sta anche bravo è fortunato detto questo no sono caratteristiche diverse Lukaku comunque è un punto di riferimento li gioca quasi da boa si appoggiano molto su di lui senza di lui la squadra esprime velocità quindi noi domani bisogna essere bravi che se c'è lui bisogna difendere in un modo se non c'è lui bisogna difendere in un altro modo grazie a tutti